E ora? Il giorno! Quale giocattolo sceglierai questa volta? È ora di tornare a casa! Grazie nonna per questo indovinello! Ciao a tutti! Io sono il guardiano, Capitan Gatto! Non temo il topo e non temo il ratto! E ora? Il giorno! Quale giocattolo sceglierai questa volta? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato! Sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame! Perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno! Io sono il guardiano, Capitan Gatto! Non temo il topo e non temo il ratto!